È chiaro che nella vicenda interna del Partito Democratico non sono in condizione di poterci entrare. Lungi da me da entrare nelle dinamiche di un partito mi verrebbe solo una battuta. Se basta così poco per fare implodere un partito è da alimentare un dibattito che per molti versi sembra un dibattito surreale. Se oggi Cuffaro volesse fare del male al PD basterebbe una battuta. Noi abbiamo un progetto politico che è riunire l'area dei moderati e mettere insieme coloro che in questa terra vogliono guardare al futuro e soprattutto non vogliono attardarsi nelle polemiche molto spesso sterili e invece vogliono guardare alle questioni molto serie e molto concrete.